Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Sono molto contenta, sono molto carica in questo periodo per fare video e oggi torniamo con un bellissimo video makeup, una first impression. Ormai questo format, non lo so, mi piace tantissimo, mi dà proprio la carica perché mi piace esplorare il mondo del makeup e quindi oggi esploreremo un'altra marca. Come avrete già visto dal titolo, la marca che andremo a testare oggi è Elf, una marca abbastanza low cost che ha tantissimi prodotti carinissimi, infatti ho preso un sacco di prodottini diversi, un po' per provare tutto. Non ho mai provato questa marca perché comunque in Italia non penso che sia molto sponsorizzata. Io l'ho scoperta infatti grazie a YouTube, ma ad esempio in negozio non ho mai visto cartelloni di Elf, niente di niente. Quindi oggi andremo a provarle a vedere come performano questi trucchi. Sono molto curiosa, non sto qua a farvi vedere nell'intro prodotto per prodotto perché ve li farò vedere man mano che il video andrà avanti, man mano che li proveremo e andremo a commentarli e come sempre gli daremo un voto. Comunque detto questo io vi invito ad iscrivervi al canale come sempre e a mettere like e a commentare ovviamente se il video vi è piaciuto ragazzi. Mi raccomando. Fatte le dovute premesse, io direi che possiamo partire direttamente con il makeup perché sono super curiosa. Solita postazione makeup, eccoci qua. E direi che possiamo partire direttamente dal primo prodotto. Il primo prodotto che è Zan Zan Zan, un bel primer, tone adjusting face primer e ovviamente come potete vedere il colore di base che serve a neutralizzare le discromie è il verde perché comunque non so se notate ma io ho abbastanza dei rossori soprattutto in questa parte qua ma comunque se ho delle discromie io ho sempre dei rossori. In più ho pensato andando verso l'inverno direi che è il primer perfetto. Dovrebbe essere anche opacizzante. Adesso andiamo a vedere come si comporta. Non so se ne ho messo troppo, io abbondo qua. Comunque è un bel verde importante, mamma mia. Un verde prato. Noto che rispetto ai primer con questa consistenza un po' setosa tra virgolette sembra molto più olio una volta steso. Sinceramente vi dico la verità, le mie discromie sono importanti quindi non immaginavo facesse un gran lavoro però boh, non lo so, voi notate differenze? Io non noto molte differenze. Secondo me non ne ho messo neanche poco perché mi sento bella piena di primer. Può darsi che qualcosa abbia fatto, magari io non lo noto. Fatemelo sapere nei commenti. Comunque la texture sulla pelle non mi dispiace per niente. Non neutralizza al 100%, io direi che gli do un 6,5-7 dai perché comunque la formula mi piace molto. Adesso non ho preso nessun prodotto per la base, quindi fondotinta, correttore. Vado a fare una base veloce e torniamo con il prossimo prodottino. Ecco qua la base fatta. Ho fatto anche le sopracciglia. Ragazzi, mi sa che ho usato un fondotinta un po' troppo chiaro che usavo l'inverno scorso. Ho detto vabbè dai proviamo a riutilizzarlo. chiarissimo, però dai non si nota troppo la differenza con il collo, quindi amen. Oggi è andata così. Comunque ho fatto le sopracciglia appunto correttore e quant'altro. Sono tutta bella bianca come un cadavere. Dopo gli diamo un po' di colore. Spoiler. Però adesso andiamo a usare questo prodotto qua che è un mascara praticamente che ha due parti. Uno per le ciglia e l'altro invece per le sopracciglia. Infatti andremo a prendere la parte per le sopracciglia e andiamo a vedere come le setta. Rispetto tipo a quello di Essence che uso lo scovolino è più grande. Quindi forse fa un pelo più fatica a stenderlo. Però non mi dispiace la formula. Comunque non prende troppo troppo prodotto che è una cosa che apprezzo perché dopo se no sembra tipo di avere le sopracciglia bagnate. Non ci sta. Comunque tira anche un po' su le sopracciglia se notate. Direi che non si dovrebbe andare a settare secondo me non è proprio un gel gel tipo gel per capelli ma mi piace molto. L'altro lo andremo a usare poi dopo ovviamente per fare mascara tipo. Intanto continuiamo con la base e andiamo a fare un bel contouring con na 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 un putty bronzer è un bronzer in crema ormai sapete che i miei nuovi acquisti saranno tutti in crema. Ho preso un colore forse un po' scuro che con questa base proprio va a nozze vabbè proveremo a usarla questa è la colorazione bronzed bell direi che è il colore se non ricordo male era quello e adesso andiamo a provarlo con sta base bianca poi beh dai è sicuramente più freddo di quello che pensavo non è freddissimo ovviamente le cose troppo fredde su di me fanno l'effetto grigio ma comunque io adoro i prodotti in crema perché sono stramodulabili cioè anche se ne prendi uno scuro così basta che non esageri e va bene comunque io adoro si fonde molto bene con il fondotinta che comunque è un fondotinta abbastanza secco quindi cioè se si fonde bene con questo direi che siamo a cavallo abbondiamo ancora un po' la formulazione mi piace molto è meno cremosa tra virgolette rispetto a quello di Fenty quello di Primark che abbiamo provato è più come se fosse tipo polvere come se fosse polvere bagnata non mi dispiace però ovviamente per la mia pelle secca forse è meglio qualcosa di più oleoso qualcosa di più cremoso non che questo non sia cremoso però gli altri lo erano di più ecco diciamo ci credete che c'è una mosca? io non ho parole ok comunque qua abbiamo fatto poi il bronzing qua sotto lo vado sempre a fare in polvere perché in crema non lo so nel collo non mi sento a mio agio mi piace davvero un sacco dire che questo gli do un 8 su 10 passiamo al prossimo prodotto che è nanana il corrispondente in blush ovvero un blush in crema sempre putty blush quindi il packaging è sempre lo stesso la colorazione si chiama bahamas questo è il colore è un pescato abbastanza scuretto ma secondo me secondo me farà poi come il bronzer secondo me si fonde molto bene se lo vado a prendere abbondiamo ovviamente si è un pescato che vi dico molto delicato mi piace molto 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 bello la formula è più o meno come quella del bronzer anzi senza più o meno secondo me è identica mi piace come si stende cioè comunque ragazzi i prodotti in crema si fondono troppo bene con la pelle cioè non fanno macchia proprio agevolano la vita cos'è stata la mia vita prima dei prodotti in crema ragazzi bello bello questo do un 8 ma sapete che io sono pazza per i blush adesso vado a settare tutto mi sento la pelle secchissima con questo fondotinta non mi piace molto sta base non lo so se riuscite a notarlo mi sento rugosa e piena di squame ecco oggi è la prova del disagio di avere la pelle secca mi sento piena di rughe mamma mia terribile terribile vado a settare non ci pensiamo più per l'amor di dio ok ho settato tutto ho spruzzato un'infinità di setting spray sperando che la mia pelle arida potesse impregnarsi di un po' di liquido non lo so un po' è migliorata la situazione ma ragazzi oggi proprio rugosa rugosa hashtag rugosa oggi comunque ora andiamo ad utilizzare zan 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 una bellissima palettina e una mini palette troppo carina veramente cioè guardate quanto è piccola rispetto alla mia mano ha dei colori fantastici proprio appena l'ho visto ho detto bene ci facciamo un bel makeup look con questa e sono super curiosa di provare anche gli ombretti di elf e è molto bello direi che li possiamo usare tutti tra l'altro e io partirei con il verde un pelino più il secondo e andiamo a fare un po' di sfumatura allora il verde sicuramente non è il colore più facile del mondo da utilizzare sono andata un po' rischiando non è pigmentatissimo magari sono stata un po' scarsa adesso provo a usarne un po' di più però mi sembra faccia anche macchia dobbiamo impazzire non mi piace non mi piace non lo so raga io qua continuo a sfumare sperando che cambi qualcosa boh provo a prendere un altro po' i colori non funzionano come voglio proprio mi fanno arrabbiare allora questo è soltanto il colore di transizione quindi speriamo magari con quello un po' più scuro di andare a risolvere la situa però vedete cosa mi sta a significare vabbè andiamo con quello più scuro vediamo un po' qua che dice questo se non si sfuma neanche questo urlo cioè che poi l'altro non è che non si sfumasse però boh mi sembra che si sfumi male ma anche questo che palle no raga terribile sono io che non sono in grado cioè un po' si sfuma non sto dicendo che non si sfuma però non mi dà l'effetto che mi piace molto scuro tra l'altro ma vabbè posso provare a riprendere quello un po' più chiaro me li mixa meglio poi sta mosca ma poteva entrare proprio mo' sta mosca di mer vabbè abbiamo fatto quello che si poteva mi sono anche spinta un po' troppo oltre forse cosa dite non fa schifo non fa schifo però non lo so mi dà un effetto che non mi gusta moltissimo proviamo gli altri due che sono quindi i shimmer direi che il verde chiaro lo vado a mettere al centro e qua nell'interno vado a mettere l'oro con gli shimmer elf te la cavi bello questo mamma mia ma che bel colore pazzesco voglio farmi un bagno dentro a questo colore un po' verde c'è quella punta di giallo quella punta d'oro mamma mia ma stupendo stupendo vedete la differenza pigmento macchia in forme con gli shimmer ci siamo con i matte meno diamo qua l'oro mi sembra buono anche l'oro bel colore pazzo mi piace ah non mi do pace con questo qua non mi riesco a dare pace vabbè ragazzi vabbè adesso prendiamo il pennellino piccolo e andiamo a con quello più scuro sotto qua ma pochissimo pochissimissimo giusto per fare la rima inferiore un pelo più scura perché poi andiamo a sfumare con l'altro verde che abbiamo matte non lo so ragazzi che vi devo dire che mi piace no si sfuma male che me sta a significare non mi piace no raga cioè si sfuma troppo male fa macchia ma guardate qua che macchia che macchia oggi vecchia e macchiata ecco cioè sono così belli questi shimmer sono così belli come si fa io ho sta palette ragazzi cioè più di 5 e mezzo non glielo posso dare e quel 5 e mezzo sono solo per gli shimmer gli altri due non si guardano proviamo ad andare a coprire tutto con il mascara va là ok raga make up finito continuo a odiare questi matte guardiamo agli shimmer che sono una meraviglia una meraviglia ai 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 comunque ho notato che con il mascara per le sopracciglia le sopracciglia proprio si settano cioè è tipo gel gel per capelli non mi dispiace perché così zack rimangono lì e non si muovono più il voto alla palette gliel'abbiamo già data abbiamo già fatto la scenata di pazzia perché non funzionavano il make up look non è brutto non è che è usceno dico terribile però formulate meglio i matt raga perché sono brutti sono brutti non si blendano adesso chiudiamo la parentesi e andiamo col prossimo prodotto speriamo che ci dia delle gioie il prossimo prodotto è un mascara uscito tra l'altro da poco perché ho visto che era una novità quindi l'ho preso perché era una novità lo scovolino non è uno dei miei preferiti è a clissidra molto grande direi che su un occhio faccio con questo e sull'altro occhio andiamo ad utilizzare la parte per le ciglia del mascara trasparente che abbiamo usato prima ho buttato la scatolina quindi non riesco neanche a leggervi tipo cosa fa si allunga fa volume comunque non mi dispiace per la lunghezza quando faremo l'ultima passata vedremo se ne vale la pena anche con il volume andiamo con quello trasparente sull'altra ciglia non l'avevo mai visto tra l'altro questa cosa del mascara trasparente una cosa che mi ha incuriosito parecchio ovviamente non so se voi vedrete qualcosa però ragazzi un mascara del genere secondo me è utile tipo per quei make up no make up e quindi top che diciamo te le tira solo su e nient'altro comunque sì secondo me è proprio tipo mascara secca proprio il prodotto e le ciglia rimangono in posa allora terza mano data entrambi gli occhi ovviamente allora mascara mi piace molto la formulazione non lascia troppo prodotto sulla ciglia ma neanche troppo poco lo scovolino è molto grande molto setoloso ma questa è un'opinione personale quindi vabbè e io gli darei un sette e mezzo perché comunque mi piace l'effetto finale che fa le ciglia però scovolino preferisco un altro mi dispiace per quanto riguarda invece il mascara trasparente allora rispetto alle altre ciglia non so se notate sono un po' più giù quindi secondo me si asciuga molto più lentamente però si asciuga perché già le altre passate avevo notato che fosse già un po' asciutto capito un po' grumoso comunque mi sembra che dia anche un po' di volume questo prodotto secondo me è molto valido sia per quanto riguarda le sopracciglia che le setta molto bene e le lascia lì dove sono sia per il mascara quindi io a questo do un 8 su 10 soprattutto perché comunque è un prodotto particolare non che io sia un'esperta make up artist però boh non l'ho mai visto troppo questo prodotto beh insomma il make up finale è questo aggiunto il mascara nero anche nell'altro occhio poverino vi dico non mi dispiace non è terribile mi sono lamentata un po' oggi comunque il risultato finale secondo me facciamo un po' un close up non è male per l'amor di dio soprattutto per gli shimmer che quelli mi fanno proprio volare via tutto sommato la marca Elf non mi è dispiaciuta per niente ombretti rimangono un grande punto interrogativo mi sembra una marca valida soprattutto per il prezzo che ha che è molto basso e niente ragazzi siamo giunti alla fine anche di questo video fatemi sapere cosa ne pensate del make up spero di esservi stata utile con questa first impression della marca Elf nel caso voleste comprarla io vi aspetto al prossimo video vi mando un bacione e ciao